guardate quale ampia disponibilità di spazi di spiagge che bellezza qui sono alla fine di antignano c'è lo soppassato e ora sto facendo comunque le riprese verso antignano la bellezza di queste non si vede nulla si intravede la gorgona si intravede la capraia e abbiamo intravisto poco fa l'isola di acqua grazie 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 grazie